La duchessa di York, Sarah Ferguson, ha perso 19 kg e ora mostra tranquillamente il suo fisico su riviste e copertine per dimostrare che volere è potere e che è possibile ritrovare, se lo si vuole, la forma persa. Non è stato un periodo certo facile, in effetti, per la duchessa che ha deciso di mettersi a dieta dopo aver eguagliato il peso che aveva quando era incinta di Beatrice. Ero sempre arrabbiata, ha confessato la Ferguson in un'intervista raccontando quel periodo. Credevo che non sarei mai riuscita a perdere peso, stavo semplicemente annegando nel cibo. E poi ha continuato, ci ha voluto coraggio per mostrarmi in pubblico in tutti questi anni in cui ero sovrappeso. Ogni volta che se ne uscivano con titoli come Duchess of Pork o Fate Fergie, non si rendevano conto che stavano colpendo la mia anima.